Non avevo dubbi Mi sa mai Mi sa mai Mi sa mai Pa, ma stai salire se stai s*****o a lei Cosa pensiamo noi? Maschio, maschio Ti dico senza ombra di dubbio che sono io Anche se non è che l'ho potuto dimostrare a molti Però... Mi sono convinto Se... Lei si fosse concessa avrei detto lei Però... Ma io dalla Fabiana sono dovuto scappare Però, raga, io... Congretia Spero Clea Che c*****o da me Se parliamo di passione, di soul warfare e di attitudini Sascha Donatelli Ossia io Io ho una protezione di una ragazza Che è palesemente più f***a di tutte le altre E io ovviamente essendo più f***a La più brava a letto Quindi direi Nikita Perché per i commenti che ho sentito Cioè... Non lo so Io la dico così ma... Su questo proprio non ci piove Femmina... Secondo me Fabiana... E' una che se ne intende parecchia Ragazzi È divertente Lo sai Da Bravo, bravo, bravo Pure piccola Ma tu devi dire quelle con cui sei andato Eh... La più brava a letto Boh, mi ricordo... Mi ricordo Lucrezia Se non me la so un c***o adesso ma... Non lo so... Penso Lucrezia No... Penso immagino Fabiana Secondo me Fabiana sessualmente è... Da provare Andrea A livello femminile A livello femminile penso che quella più brava a letto possa essere io Allora... Secondo me... Maschi... Ti dico... Per cui due vedete... Mattia Assolutamente Non poi... Era mai ragazzi... È finita assolutamente... No... Direi di no... Direi di no... Violetta com'era? Ci stava... Per quel che ci ho fatto non era male... Un po' una... Una porcella... Una porcella... Però secondo me Fabiana deve essere proprio trasgressione pura... Sì ma... Cioè... Era da provare... Ormai... Ormai... Ma lo provi fuori se ti capita... Fai un test... Fai un test drive... Stella Maria... Sono sincerita... Ho detto a Simone quando è entrata in casa... Ho fatto guarda che lei in realtà è tutt'altro... Perché bene o male in un modo... Chi parla tanto poi alla fine a concludere fa la metà... E sinceramente per come sono fatta io parlo poco perché poi agisco tanto... Alè ti voglio bene ma non mi ricordo quindi... Infatti... E poi penso che anche se mi ricordassi Mattia... Anche se è lei... Ho detto... Spero Clea... Poi... Eh... Donna... Sì anche io penso che Fabiana... Anche se mi farebbe un po' paura... A me mi incuriosisce invece... Si vede quanto hai agito nella casa? In la casa non c'avevo bisogno... Non c'avevo stimoli... Comunque... Anche te ne hai preso due di picche eh... Ugo... No... Tesoro mio canizzo... Eh... Tre... Da chi? Sei entrata quando con Mattia... Lui è un uomo... Pam... Stessa sera si è sc*****a la letta... Eh no... Matteo ci sei messo a piangere tre volte nella doccia... E ieri... Perché ho pianto scusa? Perché ho pianto scusa? Ma per Matteo... Per Matteo Diamante... Se volevo mi facevo... Sascha... Matteo... Sì... Mattia... Andrea... Sì sì... Ah... E Matteo due... Innanzitutto dice... Innanzitutto avessi voluto... Impariamo l'italiano... Perché volevo... Non si usa... Se volevo farmi qualcuno... Non se l'hai fatta... Sì sì... Infatti zero... Ma io non ho bisogno di questo... Non lo saprò mai... Sì...